Musica Sono col professor Giuseppe Di Fede di Milano, uno degli importantissimi relatori del IV Congresso Internazionale di Oncologia Integrata. Carissimo Di Fede, innanzitutto mi fa piacere rivederla dopo la visita che ci ha fatto a Genova. Riversano ha sempre piacere di parlare con voi e con l'Istituto di Medicina Biologica. Vorrei sapere cosa ne pensa dell'evoluzione dall'ultimo congresso, quindi dall'anno scorso a quest'anno dell'oncologia integrata e quello che sta avvenendo in Italia dietro Artoi e dietro il movimento. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie a voi per l'ospitalità. Devo dire che da questo IV Congresso di Medicina Oncologica Integrata sono emerse degli spunti di collaborazione e di applicazione delle terapie oncologiche naturali, per così dire, interessanti in modo che ogni professionista che abbia un paziente da seguire oncologico ha avuto oggi uno spunto, ieri e oggi, sono due giorni di grossi lavori, degli spunti terapeutici e non solo ma anche di diagnostica strumentale che può rendere utile l'applicazione di queste terapie perché come lei sa ci sono delle condizioni dove questi malati si rivolgono a noi per avere semplicemente anche un supporto dal punto di vista nutrizionale ebbene noi gli diamo dei consigli in base anche a dati scientifici che ormai la letteratura internazionale ha riempito volumi, libri, se leggere in una biblioteca trova sempre un'alimentazione anti-cancro piuttosto che prevenire il cancro ma semplicemente per alleviare quali che sono i disturbi di tipo post-chemioterapia, la ripresa anche della vita normale, insomma diamo un aiuto e un sostegno a queste persone che ci si rivolgono a noi ma con una competenza medica assolutamente ultra specialistica. Professore, so che vi state organizzando su Milano come in bio per attivare fondamentalmente un chilometro zero tra la terapia e quello che è la nutrizione del paziente che ha subito trattamenti chemioterapici, radioterapici e coadiuvati dalla medicina integrata ma il seguito, la domiciliarità dell'alimentazione, di come e dove potersi alimentare in maniera corretta per prevenire una recrudescenza, una nuova insorgenza. Ha toccato un tasto molto importante perché non c'è soltanto il conoscere la terapia e quindi dare al paziente dei consigli terapeutici con prodotti complementari, naturali e quant'altro possa essere utile. Ma anche dare una indicazione di tipo nutrizionale perché io posso anche consigliare un alimento ma devo dire dove, quando recuperarlo e in che modalità puoi mangiarlo. Ci stiamo un po' organizzando, selezionando le case più serie, selezionando quei prodotti genuini che possono far parte di questo progetto e quindi siamo al lavoro su creare una rete di distribuzione quindi con dei punti ben specifici che la nostra associazione della quale io faccio parte possa dare anche delle indicazioni precise su recuperare certi alimenti che abbiano una valenza di quello che diciamo noi, che siano sulla stessa linea del nostro pensiero di prevenzione e di sostegno alla chimioterapia. Questo è già un futuro rispetto a quello che era stato presentato l'anno scorso, è già stato il primo passo quindi? Sì, ormai siamo andati avanti, effettivamente abbiamo organizzato e individuato diverse aziende con le quali stiamo cercando di collaborare mantenendo anche dei costi particolarmente bassi a portata di malato e quindi a portata di tutti e individuando anche i centri specifici che possono erogare questo servizio. Il nostro istituto di Milano chiaramente avrà, dai nostri pazienti, avranno delle indicazioni specifiche su questo e così tutti i vari centri Ertoio. Grazie mille, è un piacere come sempre. Grazie mille, è un piacere come sempre.